SafeGate Pro. Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito. SafeGatePro.com Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo venerdì 25 febbraio, un nuovo guasto del tempo interesserà il nord a causa di aria più fredda di origine artica che scivolerà nel Mediterraneo dando vita a una depressione sul mar Ligure. Le nubi aumenteranno anche al centro, specie sul lato tirrenico, però ancora senza particolari fenomeni. Più stabile, soleggiato al sud. In Abruzzo, giornata ancora una volta stabile, con cieli sereni, specie al mattino un po' di nubi in più. Tra pomeriggio e sera, in particolar modo in appenino, nelle aree più interne, però senza fenomeni annessi, soleggiato per gran parte della giornata, lungo le coste. Temperature stazionarie massime tra 8 e 15 gradi, minimi tra 0 e 7 gradi. Grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona giornata. SafeGate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visite il nostro sito. SafeGatePro.com